dal corriere della sera via mail il direttore dell'emittente mariana padre livio fanzaga risponde ad alcune considerazioni su salvini di questo referendum non so nulla non ho competenze particolari per parlarne ma è sulla fede ritrovata dal leader della lega che fanzaga parla con più cognizione di causa matteo salvini vistò da radio maria il leader della lega evoca l'emittente radiofonica cattolica e don livio fanzaga risponde con piacere era stato l'ex ministro dell'interno ad affermare per far conoscere il referendum sulla giustizia mi appoggerò a radio radicale ma anche a radio maria ecco allora che dal corriere della sera via mail il direttore dell'emittente mariana padre livio fanzaga risponde ad alcune considerazioni su salvini di questo referendum non so nulla non ho competenze particolari per parlarne ma è sulla fede ritrovata dal leader della lega che fanzaga parla con più cognizione di causa tempo fa ho letto che ha ritrovato la fede anche grazie alla madonna di meggiugorie ovviamente questo mi ha interessato al di là della politica gli faccio avere ogni mese come ad altre personalità i messaggi della regina della pace insomma tra il celebre don livio e salvini nonostante l'ancora mancato incontro fisico sembra esserci intesa soprattutto sul fatto che non nasconda la sua fede e la sua devozione mariana come invece non di rado succede nel mondo della politica ad ogni modo dalla politica e dai referendum don livio fa non uno ma dieci passi indietro ricordando però che il prossimo futuro sarà radicalmente diverso da quello che le elite mondiali immaginano e progettano